Neve nei balconi, tu pensami così Cari telespettatori ben ritrovati, ci troviamo a Belluno presso il Teatro Comunale in occasione della presentazione del laboratorio firmato CSV Belluno Laboratorio Inquadrati Signor No, obiezione di coscienza, storie Io sono nato per stare qui Che poca voglia di farlo Ideato da Angelo Paganin, ex presidente del CSV, nonché obiettore di coscienza e dal regista e responsabile del laboratorio inquadrati Roberto Bristot assieme al tecnico del montaggio Emanuele Bunetto basato sulla ricerca storica del responsabile del centro documentazione del CSV Nicola De Toffol con il contributo dell'ex civilino Stefano Dalfar L'ho conosciuta anche troppo E intanto ingiuriate alcuni pochi coraggiosi che sono finiti in carcere L'obiettore di coscienza è una persona che nella sua vita cerca di anteporre i suoi principi morali, filosofici, rispetto delle decisioni e quindi con i suoi principi cerca di prendere delle decisioni nella vita In questo caso parliamo di obiezioni al servizio militare perché era questo il contenuto della serata abbiamo portato la storia di persone che hanno anche pagato di persone per andare contro un sistema che non prevedeva l'obiezione di coscienza e quindi il rifiutare di fare l'esercito, il servizio militare L'obiettore di coscienza negli anni ha passato diversi momenti di giudizio dal pregiudizio rispetto a chi voleva evitare quello che tutti dovevano fare servire la patria soltanto attraverso il servizio militare invece pian pianino è entrata nella comunità la consapevolezza che si poteva servire e si può servire il paese in un altro modo e l'obiettore di coscienza pagando anche di persona quindi svolgendo un servizio civile alternativo a quello militare ma più lungo, 20 mesi anziché 12 ha fatto una sua scelta di servire la patria in un modo diverso Oggigiorno possiamo dire che obiettare deve essere anche un modo di andare come dice il titolo del documentario, signor no spesso ci troviamo di fronte a delle scelte molto facili è più facile adeguarsi a un sistema, a un modo di essere, a un modo di stare La nostra storia ha sempre a che fare con fucili, schioppi, soldati, conquistatori ma parla pochissimo delle persone semplici che hanno deciso sulla propria vita perché tanti sono andati anche in galera, di cambiare la storia in modo diverso e oggi ci sono i loro frutti pochi sanno che tutti i frutti del servizio civile o comunque gran parte dei frutti del servizio civile di oggi Erasmus compreso, perché l'Erasmus è un ramo anche che si è sviluppato e si svilupperà come servizio civile anche europeo e praticamente è merito di questi ragazzi che hanno iniziato per primi a obiettare dire no, si può servire il proprio paese, il proprio stato, il mondo facendo cose utili per il prossimo, senza prendere armi in mano è stata una serata in cui ho imparato a conoscere delle storie ho visto dei volti degli obiettori di coscienza persone, occhi, sguardi e poi le loro parole esco da questa serata ricco, così mi sento maggiormente ricco rispetto a quando sono entrato in teatro io ho portato le mie parole e soprattutto però ne ho prese per questo mi sento arricchito e più leggero nell'essere ricco Rispettiamo la sofferenza e la morte ma davanti ai giovani che ci guardano Servizio civile e volontariato oggi le realtà territoriali e a chi rivolgersi dove avere maggiori informazioni sul tema Ma oggigiorno c'è questa possibilità per un giovane o fare niente o fare una scelta volontaria di fare servizio militare o fare un servizio civile un anno di impegno all'interno di organizzazioni le più diverse un ente pubblico, una realtà del terzo settore quindi una cooperativa sociale, un'associazione di volontariato in provincia di Belluno abbiamo creato un ottimo sistema è stato creato un ottimo sistema coordinato da un lato dall'Unione Montana-Feltrina che dà più risposte agli enti pubblici e dal comitato di intesa quindi centro di servizio volontariato che invece accompagna i giovani se vogliono fare servizio civile all'interno di organizzazioni del terzo settore quindi volontariato e cooperative la possibilità di farlo c'è dura 12 mesi e si può essere impegnati all'interno di diverse organizzazioni nei diversi campi a favore della persona nel settore della disabilità degli anziani ma anche nel sistema bibliotecario oppure a tutela dell'ambiente quindi rivolgetevi o all'Unione Montana o al comitato di intesa per avere una risposta a questo vostro interesse eventualmente di impegnarvi per un anno noi lo consigliamo ai giovani che non sanno ancora esattamente cosa fare da grande appena finita la scuola superiore o durante l'università per perfezionare alcune proprie abilità all'interno di questi organismi il prodotto non è stato realizzato come ti dicevo prima per una visione pubblica nel senso che verrà messo in rete in parte però con un link chiuso per la formazione e perciò è fatto specificamente per quello verrà comunque messo in rete in parte diffuso in rete ma non subito perché prima appunto diciamo che il motivo della realizzazione è quello di darlo al CSV veneti intanto ma anche italiani perché sono circa una settantina in Italia di modo che abbiano lo abbiano come come mezzo e queste sono delle chiavette che vengono date poi attraverso CSV.net che è il net di tutti i CSV italiani che è nazionale lo metteremo appunto in rete con questo link chiuso a servizio di chi fa formazione perciò avrà uno scopo proprio anche didattico